La Diocesi Lucera Troia comunica che per il periodo natalizio il Vescovo Monsignor Giuseppe Giuliano presiederà alcune celebrazioni. Si comincia con la Santa Messa Pontificale della notte di Natale in Cattedrale alle ore 19 del 24 dicembre. Nel giorno di Natale il 25 dicembre il Vescovo celebrerà la Santa Messa Pontificale alle 10.30 nella Concattedrale di Troia e alle 19 nella Cattedrale di Lucera. La Santa Messa di ringraziamento di fine anno sarà celebrata alle ore 19 del 31 dicembre a Lucera in Cattedrale. Nel primo giorno del nuovo anno il 1 gennaio 2021 il Vescovo celebrerà alle ore 9 a Biccari nella chiesa del Monastero delle Clarisse e alle ore 19 in Cattedrale a Lucera. Nella solennità dell'Epifania il 6 gennaio il Vescovo celebrerà alle ore 11.30 nel Santuario di San Francesco Antonio Fasani in Lucera. Nella vigilia della festa del Battesimo del Signore, ossia sabato 9 gennaio, Monsignor Vescovo celebrerà alle ore 10.30 nel Santuario della Madonna della Sanità in Volturara Appula e alle ore 18.30 nella parrocchia di Celenza Valfortore. Nel giorno della festa del Battesimo del Signore, domenica 10 gennaio, il Vescovo presiderà la celebrazione alle 11.30 a San Marco la Catola. Nel giorno della festa del Battesimo del Signore, domenica 10 gennaio, il Vescovo presiderà alle ore 11.30 a San Marco la Catola.